parte 2 della mimo challenge continuiamo secondo round con joada vai inizio tu sono fatti iniziamo che cazzo iniziano con me che sono pessima guarda la sua faccia tu dalla faccia capisci che cosa ci aspetta tragedia casa albero monte monte con le stelle albero ponte no che cos'è stelle cielo arcobaleno il cielo ponte per terabitia no allungare mani vabbè a parte questo sono arrivata adesso non lo so mangio un gelato sogno come fai a dire che è un sogno scatolina cioccolà e la fabbrica di cioccolano io volevo fare il cioccolà questa è la fabbrica col fumo ecco ecco scusatemi l'arte non l'abbiamo e quindi anni anni di scuola di recitazione e non sai che questa è la fabbrica col fumo io ho dunque vergognati dunque e quindi a quanto stiamo corna torno bambi un orn o torna una silhouette ma bambi c'è questo un toro un odino un tipo incazzato un tipo incazzato così random alle corna è un personaggio una persona un animale un animale no una persona chi è che ha le corna oddio ha uno scettro odino ah il canto delle ribelle ah beh è sfilata sembra elegante ma è una femmina oddio allora mamma questa cosa è una femmina che fa la favella la bestia no la bestia la bestia più cattivo della bestia più cattivo della bestia ade cattivo cattivo con le corna scar no scar no è un uccellino adesso non è una fata laurina è il contrario zeus il diavolo il diavolo è un uccellino è un uccellino come al solito che vedo ho detto un altro ragazzo è un uccellino non serve cici cici servi tu cici è un cane un cane che corre un cavallo no quello la è una parola e quella la ehm lì lì il becabondo si ahahah come me l'hai dominato gli spaghetti ahahah un portamento ahahah ahahah siamo siamo pari uno 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 me la rispacco la faccia ahahah perdete ahahah mi sento male mi sento male è difficile questo gioco adesso non possiamo vedere beh sogniamolo uguale ok ok forse posso farlo forse posso farlo ehm ma mette sempre così 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 mettetevi anche voi così più case più case no un castello ehm ci mette un pestello brava ma ci mette un pestello fa due si oh ah 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 ma che cazzo ah no lo farò mai allora eh una corona corona a loro la corona da loro un cerchio alla testa una suona io il prete la bibbia prete sacerdote prete papa il papa il papa il papa bambino che è il papa bambino il papino il padrino ha detto il papa bambino e c'è il papa bambino c'è il papa bambino c'è il papa bambino è il papa bambino visto che ci vuole differenzi bello però come lo mimi bello Sofì allora passeggiata la caduta oppure il corso dei titani mi siedo è svenuto poi un'altra cosa sempre caduta leccate pure la droga è come io lo vivo ma la droga non lo so un cartone no un film non te lo posso dire oppure che ne so la droga magari molto meno efficace quello che ti sta facendo la droga mangio mangio e muoio la morte ti fa bella lo sfruttamento una bella insieme i disastri le calamità 2012 apocalips now non li conosco al mio oppure salta il fatto che sembra nata per chiudere a foglio è morte non so come aiutarla non vuoi fare un'altra cosa che riguarda il titolo oppure dopo il passato il futuro i pezzi i pezzi no andare avanti stai affettando il prosciutto la libreria ma scusami eh ma che cazzo la provola la torciglia arrotola arrotolare no quando dici poi più in là dopo domani dopo in futuro eh vabbè lasciando questo si poi lasciando quello lasciando questo poi vediamo un po' che cazzo rimane l'articolo è uno una 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 settimana da dio oh ma guarda che lo sto facendo in tutti i modi una una parte di morte una un terzo una oppure una 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 serie di sforgimenti una 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 2,2,2 E' l'ultimo giro Come lo faccio? Ottimo, ottimo Ok, in caso la posso fare Ripete questi sicuro, guarda No, voglio vedere anche io Ok, allora Chic, mamma mia Mi aggiusto Un cammino Ti siedi? La bassa? Sei piccola? Una bambina? No, una piccola Chiamiferaia Posso reagire? Non so come farlo Bene Allora abbiamo detto Che è bella Eh, la bella No, bella No, è carina Pretty Little Laias Sì, sì Bravente È perché Pretty Little E Laias non sapeva come farlo Quindi meno mai che indovina Bugele E sto a tre E vai a questo giro Lo vinco io Me lo sento Siamo a 3,2,2 Non è una cosa vogliava fare Ci stava però Pretty Little Oh Gesù Potevi fare È impossibile questo No, no Ha fatto questo Non ti preoccupare È impossibile Puoi farci Più delle le canze dall'inizio puoi farci Dai, parti Arrabbiate Come pego? Allora Excuse me Snob No, no, no Oh mio Dio Il mio stesso vestito Non mi va E sai Mi mando No No, non lo farò Nera delghetto Ah, brava No, pezzetto Che è possibile Segnaventola Allora Non è possibile Allora Che sto facendo Sei arrabbiata Arrabbiata No Mad No, la stai Le stai parlando male alle spalle Spettegola Inciucessa Fa parte del mimo Che buona Eh Non lo so Eh 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 Ti metto a piangere Eh Eh Wow Che misteria È bello Bello È bello I classi È un classico 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 No No Piccole Non c'è manco Qua Siamo, inizi È la tua lomba Non so se c'è Qua È tale L'innocenza Non c'è Eh Vabbè Abbiamo convinto che è un classico Vai avanti Vai avanti È un classico E È un classico 3-3-2 ah anche perchè dovrebbe finire male o parità o vinco io? ah sicuro poi si vinco cioè da sfigata che non sapeva fare niente e fate così faccio la fabbrica allora concentratevi le odio le odio le odio mai mi ladro che lancia i pomodori il ladro che lancia i pomodori ok ma sei presa ancora sei felice di cuore to do what come scusate ribello da dove la cosa è una serie di sfortunati eventi di Roma va le cose e scappa e le lancia robin hood adesso lo faccio io è una cinema è una montagna la corona è il signore di jadelli corona montagna forzuto ercule url 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 Il video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, se volete ripare questo tag, siete tutti taggati, ma lo dovete fare in compagnia, sennò è una merda, da solo, chissà cosa posso fare, oh mio dio, no potete farlo con vostra mamma o vostro cane, magari potete, niente se il video vi è piaciuto, bel pollice in su, iscrivetevi al loro canale, il video di Ken Saver, sui fani video of it fit, ve lo metto qui sotto nella info box, commentate, fateci sapere se vi è piaciuto, se vi è piaciuto, e se volete, altri video così, se vi piace ve li facciamo altri, può avere pure con Gabriella, ecco, è sempre Ambra che ci scrive le cose, Ambra che ci scrive da casa i fogliettini, niente, ne sapiamo sempre come fare i video of it fit, una volta, adesso non lo faccio più, quindi 3, 2, 1, ciao!